Torna la mezza maratona a Genova. In attesa della maratona, come dicevamo in conferenza stampa, perché questo è un sogno, devo dire che l'amministrazione è davvero un caloroso benvenuto a tutti i genovesi e non genovesi, che sono tanti, che sono qui a correre. È una grande occasione, grande occasione sportiva, ma grande occasione di socializzazione, dello stare insieme, anche perché Genova, città ospitale, offre attraverso la mezza maratona una visione inedita di sé e questo è davvero un grande sforzo fatto dagli organizzatori, ma anche una grande soddisfazione vedere ogni anno crescere i numeri. Intanto sarà l'opportunità per tutti coloro che parteciperanno e che vengono da fuori Genova di vedere una città incredibile, correndo sul mare, correndo nel centro storico, correndo sulla sopraelevata, da una parte con i tetti della città e dall'altra col mare. Chi si fermerà per il weekend poi avrà una città estremamente ricca, che offre in questo periodo tante iniziative, tante mostre, il waterfront, e la città li accoglierà anche con delle opportunità, degli sconti per chi presenterà il pettorale presso i musei. Quindi un grande weekend di corsa, ma anche di solidarietà, le iniziative colletterali sono molte, all'Acquario di Genova il sabato sera alle 19, e poi in piazza caricamento, nelle varie serate, musica, accoglienza, divertimento, spettacolo, oltre che villaggio. Quindi con gli organizzatori si è preparato un programma che accoglierà tutti i partecipanti, ma anche la città si apre nel migliore dei modi ai cittadini e ai corridori. Quanti partecipanti aspettiamo? Ne aspettiamo diverse migliaia, sono 3.000, ma poi io credo che fra tutto riempiranno alberghi, strade, strutture, e io credo che queste migliaia di persone vengano a Genova non solo per correre, ma perché siamo una bella città. Grazie a tutti.